Costante aumento di contagi, ricoveri e purtroppo anche dei morti. Torna a correre la pandemia covid in Puglia. Infatti l'ultimo bollettino epidemiologico pubblicato dalla regione fa registrare altri 8.420 nuovi casi su quasi 42.000 test effettuati. Sono 14 invece le persone decedute sfiorando quasi le 8.000 vittime in Puglia dall'inizio dell'emergenza sanitaria. L'aumento dei nuovi casi resta esponenziale nelle province di Bari e Lecce dove sono state accertate rispettivamente 2.685 e 2.262 positività. Sono 1.043 quelle registrate nella provincia di Foggia. Dati più bassi ma comunque in forte risalita negli altri territori. 955 nel Tarantino, 805 nel Brindisino e 582 nella BAT. Continua a salire il numero dei pazienti ricoverati negli ospedali pugliesi. Sono 609 quelli presenti al momento in area non critica, più 6 rispetto alla giornata di ieri, mentre sono 38 i pazienti che lottano contro il virus nelle terapie intensive, più 3 nelle ultime 24 ore. Sempre in risalita il numero degli attualmente positivi in Puglia, che sono oltre 113.000, nonostante il buon numero odierno di negativizzati, che sono 5.610.